In questo video confronteremo in sintesi alcune caratteristiche di Dante, uomo del Medioevo, e di Petrarca, uomo del preumanesimo, in particolare riferimento alla loro ideologia e al loro pensiero. Iniziamo dunque, ecco qua, osservando i ritratti di Dante e di Petrarca con una definizione, se vogliamo, sintetica. Dante, uomo di certezze, un intellettuale sicuro di sé, trasmette un messaggio chiaro e unitario. Quello dell'uomo del Medioevo appunto basato sulla certezza, basato su una realtà organizzata in modo gerarchico, al vertice della quale c'è Dio, ci sono l'impero e la chiesa e tutto il resto si articola intorno a questo punto centrale. Petrarca fa un passo avanti rispetto a Dante e inizia già ad applicare quello che sarà il senso critico ai problemi tipico del Rinascimento. Un uomo di oscillazioni, caratterizzato da dubbi, pentimenti, sul proprio comportamento, sul proprio modo di agire e analizza in modo critico ogni suo passo, ogni problema che egli incontra. Passando poi alla concezione dell'amore e dei classici, ecco noi osserviamo che per Dante l'amore è fonte di beatitudine e via per raggiungere Dio, basti pensare a come viene raffigurata Beatrice sia nella vita nuova sia soprattutto nella commedia. Ecco, Beatrice non è intesa come una donna amata in quanto tale, ma più come appunto una donna angelo, come una via che porta verso Dio. Il suo non è un amore carnale, ma è un amore tutto spirituale. Mentre in Petrarca abbiamo una concezione totalmente diversa dell'amore. L'amore non è la strada per raggiungere Dio, niente affatto, ma è una colpa di cui pentirsi. In questo Dante, sì scusatemi, Petrarca riprende certe posizioni che erano già dei prestinovisti e degli stilnovisti, ma portandole, se vogliamo, all'estremo. L'amore è una colpa, Laura è una donna, è una creatura come tante altre e amare lei vuol dire distogliersi dall'amore verso Dio e quindi commettere un peccato. Per cui tutto il percorso di Petrarca sarà una riflessione sul senso di questo amore e un pentimento che lo porterà poi invece ad abbracciare la strada della preghiera, della vita invece spirituale. Per quanto riguarda la prospettiva nei confronti dei classici, Dante certamente li conosce, ne vediamo abbondanti citazioni soprattutto nella commedia, ma li rilegge in prospettiva medievale e cristiana, interpretandoli secondo quella che abbiamo imparato a definire la concezione figurale. Dunque, i classici vengono interpretati in base agli insegnamenti che possono dare all'uomo del medioevo e anche gli eventi, i personaggi del mondo antico vengono riletti in prospettiva cristiana, come figura per qualche messaggio di tipo invece religioso. In Petrarca invece i classici, con prospettiva già preumanistica, ci possono fare da guida per conoscere noi stessi e per raggiungere la virtù. Ecco, chiaramente l'atteggiamento di Petrarca è preumanista in questo senso, nel senso di prendere i classici per se stessi e non in funzione della propria mentalità, ma anche per quanto riguarda gli studi che Petrarca compie, ecco, per quanto riguarda proprio il mondo classico. Ecco, lo troviamo in giro per biblioteche a cercare codici particolari, scopre le familiari di Cicerone, si sente di essere messo in contatto, scopre le lettere ad attico, ecco, sente di essere in contatto profondo con questo personaggio, come con tanti personaggi dell'antichità, e gli rivolge proprio delle lettere. Quindi c'è un rapporto a tu per tu con i classici. Collegato a questo abbiamo il problema della fede. Ecco, in Dante la fede è salda e collettiva, la fede è tipicamente medievale, dell'uomo del Medioevo. Mentre in Petrarca la fede, sì, è certamente sincera, ma è un fatto personale, è frutto di un cammino che l'individuo deve fare, di ostacoli che l'individuo deve affrontare, deve superare. Ecco, non è affatto un sentimento collettivo con cui l'uomo si sente parte di una comunità, ma è completamente individuale. Quindi questo ci mette in contatto anche con il ruolo dell'intellettuale per Dante e per Petrarca. Per Dante l'intellettuale ha un ruolo pubblico, infatti Dante si inserisce nel mondo comunale, lui stesso ha un ruolo politico. Mentre per Petrarca l'intellettuale ha un valore in riferimento al mondo delle signorie, è già quello che sarà poi, se vogliamo, un intellettuale cortigiano. Lo stesso Petrarca gode della protezione dell'uno o dell'altro signore. Un po' come Dante alla fine della vita, ma Dante sappiamo che lo fa per motivi biografici, perché è stato esiliato da Firenze, mentre in Petrarca abbiamo questa tendenza, diciamo, sistematica a cercare la protezione dell'uno o dell'altro signore. Il papa ad Avignone, la corte di Avignone in sostanza, oppure in Colonna a Roma, per cui abbiamo questo rapporto un po' diverso con il potere. Concezione del sapere. Ecco, Dante punta alla sintesi enciclopedica di tutto il sapere medievale, e quindi la Divina Commedia opera in questo senso, la Divina Commedia è una specie di enciclopedia. Abbiamo riferimenti filosofici, riferimenti scientifici, letterari, abbiamo una sola opera che racchiude tutto il sapere della sua epoca. Mentre Petrarca analizza problemi diversi volta per volta. Questo ha un riflesso anche sulla struttura della sua opera principale, che è il canzoniere, che lui stesso chiama rime sparse, ovvero sia frammentarie. Ognuna di queste si concentra su un unico aspetto della psicologia del poeta. Alla fine, però, considerando le rime, considerando il canzoniere nella sua unitarietà, possiamo rintracciare le impronte di un cammino, che Petrarca fa dal peccato verso il pentimento. Questa concezione della cultura e dell'analisi dei vari problemi si riflette proprio nella concezione in generale della vita, ecco, che deve essere raccontata nelle opere dei due poeti. Dante racconta la vita nella sua totalità, in tutti gli aspetti. Non tralascia né il sublime, né il basso, il volgare, pensiamo a certi passaggi dell'inferno. Mentre Petrarca riflette sull'uomo in se stesso, sull'individuo, sui suoi processi psicologici. E quindi abbiamo una visione, se vogliamo, più parziale anche del mondo, proprio a causa della prospettiva individuale. Questo è chiaro che si riflette poi, a sua volta, anche sulle scelte linguistiche. Il plurilinguismo dantesco, da un lato, e il monolinguismo petrarchesco. E se poi vogliamo andare ancora oltre, capiamo che il modello di Petrarchesco, che si avvicina di più come modo di concepire il mondo, come modo di concepire la psiche all'umanesimo e poi al rinascimento, sarà quello che effettivamente avrà più fortuna, sia dal punto di vista delle forme, dei temi, ma anche dal punto di vista linguistico. Pensiamo appunto a Bembo, alle proge della vulgarlingua, a 1525, il modello della poesia è proprio Petrarca. Petrarca avrà grande fortuna anche all'estero. Ecco, Dante sarà certamente eletto, sarà certamente apprezzato, ma difficilmente diventa un modello nell'età moderna. Mentre Petrarca, dicevamo, ha più fortuna. Dante, invece, viene ripreso più nel mondo contemporaneo. Diciamo, sono due modelli di intellettuali che per molti aspetti sono complementari. Ecco, quindi impariamo a distinguerli, impariamo a vedere le loro specificità, le loro caratteristiche. Ecco, e io chiudo qui. Grazie per l'attenzione e buon ripasso.